Allora Gesù fu condotto dallo spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti ebbe fame. Gli si avvicinò il tentatore e gli disse se sei figlio di Dio di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose sta scritto non di solo pane vivrà l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa e postolo sul pinnacolo del tempio gli disse se sei figlio di Dio gettati giù. Infatti sta scritto darà ordini per te ai suoi angeli che ti sorreggano sulle braccia perché non urti in qualche sasso il tuo piede. Gli rispose Gesù sta anche scritto non tenterà il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro magnificenza e gli disse tutte queste cose io te le darò se prostrato a terra mi adorerai. Allora gli disse Gesù vattene satana sta scritto adorerai il Signore Dio tuo e a lui solo presterai culto. Il diavolo allora lo lasciò ed ecco che gli angeli si avvicinarono a lui per servirlo.